La sicurezza di scuole e strade edifici pubblici è uno dei punti fondamentali del mio programma elettorale ed argomento prioritario anche per il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo ribadisce la candidata per la provincia dell'Aquila della Lega, Antonietta Laporta, alla luce delle lettere che sta inviando in queste ore Salvini e sindaci di 7.402 comuni sotto i 20.000 abitanti, dove si annuncia l'arrivo di quasi 400 milioni di euro destinati alle opere di messa in sicurezza di scuole, strade edifici pubblici patrimonio comunale. Si tratta di una cifra complessiva di circa 400 milioni di euro sbloccati dal titolare del Viminale con il decreto di assegnazione. È una notizia che conferma l'attenzione del mio partito alla sicurezza degli edifici. Attivare investimenti significa dare impulso all'economia e ai territori. All'attenzione posta da Salvini a problema, spero che segua. Attenzione da parte degli amministratori tutti per il celere utilizzo dei fondi. La candidata di azione giovani, Roberta Salvati, ha raccolto invece l'appello per costruire un patto per le donne. Rispondo con entusiasmo all'appello lanciato dalla Presidente della Commissione regionale per le varie opportunità per costruire insieme un patto per le donne, per realizzare all'interno dell'Assemblea regionale una politica nuova, moderna, competitiva, interviene la Salvati, ricordando che grazie anche alla doppia preferenza di genere potrà contare sicuramente su una rappresentanza femminile più numerosa e competitiva, per affermare anche in Abruzzo, nell'istituzione e nella società civile, condizioni migliori e più eque, ma soprattutto per realizzare una legislazione attenta e puntuale ai bisogni delle donne. Fra sicurezza degli edifici pubblici ed edilizia scolastica, pari opportunità, finalmente si comincia a parlare di contenuti dopo un inizio di campagna elettorale, tutt'altro che tranquillo.